Sassano alvia la catena solidale per Nick Di Brizzi, attende duplice trapianto polmonare. A settembre torneo della solidarietà. Expo 2015, i prodotti, i sapori e le tradizioni del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano, Alburni, protagonisti al Salone Internazionale con la BCC di Buon Abitacolo e l'Associazione Laica. Pertosa dal 21 al 23 agosto torna il Negro Festival con un programma ricco di ospiti internazionali e tanta promozione del territorio. Banca a Montepruno, concerto di Don Bacchia e Roscigno Vecchia sabato prossimo per il Montepruno Day. Sport FGC Salerno, ieri l'incontro con le società sportive della provincia. Buonasera, ben trovati a questa edizione con informazione di Uno News. Andiamo in apertura a Sassano dove sta prendendo il via una gara di solidarietà a sostegno di un nostro connazionale che vive in America. Parte infatti il progetto di solidarietà che vede coinvolti i giovani dell'Associazione Attivamente di Silla di Sassano con il parroco Don Bernardino Abadessa per raccogliere fondi da destinare alla causa di Nick Di Brizzi, un giovane connazionale che vive a Los Angeles e che ha bisogno di un duplice trapianto polmonare. A settembre è previsto un torneo di calcio per la raccolta dei fondi. Parte una gara di solidarietà a favore di un concittadino del Vallo di Diano che vive a Los Angeles. Nick Di Brizzi, 33 anni, nato da genitori di Sassano e migrato in America e affetto da fibrosi cistica polmonare dalla nascita. Ora le sue condizioni si sono notevolmente aggravate e ha bisogno di un doppio trapianto polmonare per poter continuare a vivere. Si attende in questi giorni la visita per inserire Nick nelle liste d'attesa e poter effettuare il trapianto. Ma in America è necessario dimostrare anche di essere in possesso delle risorse economiche. A sostegno del connazionale si è mossa la comunità di Sassano con i giovani dell'Associazione Attivamente e il parroco della Chiesa della Madonna di Pompei di Silla di Sassano, Don Bernardino Abbadessa, che stanno dando vita ad una raccolta fondi attraverso l'organizzazione di un torneo di calcio in programma nel mese di settembre. Anche il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, scende in campo per la solidarietà e dopo aver conosciuto e parlato con Nick lancia un appello alla comunità per sostenere il nostro concittadino che ora più che mai ha bisogno di avvertire la vicinanza delle persone che vivono nel suo paese d'origine. Un piccolissimo gesto di ciascuno di noi può salvare una vita. A sostegno della causa del 33enne originario di Sassano, anche il presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano e dell'Associazione Attivamente, Valentino Di Brizzi, che sostiene l'azione dei suoi ragazzi aiutandoli nella realizzazione del torneo. L'iniziativa ha già raccolto inoltre il consenso delle forze dell'ordine con i carabinieri, polizia stradale e guardia di finanza che scenderanno in campo a sostegno della causa. A loro si aggiungono anche gli imprenditori dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano e ragazzi del gruppo Giovani di Attivamente. Le banche del territorio aderiscono in duplice veste. Banca Montepruno e BCC di Buonabitacolo, infatti, hanno da subito sposato la causa con i direttori Michele Albanese e Angelo De Luca, che oltre a garantire la presenza al torneo con le squadre degli istituti di credito hanno dato anche la disponibilità per l'apertura di un conto specifico su cui è possibile effettuare la propria donazione. La macchina della solidarietà è già in moto per consentire a Nick Di Brizzi di effettuare il trapianto salvavita. Le adesioni al torneo, diamo una mano a Nick, sono aperte. Chiunque volesse partecipare con una propria rappresentativa può farlo contattando l'Associazione Attivamente di Silla di Sassano con il referente Michele Pizzi al numero 393-543-7820 oppure il parroco della Chiesa della Madonna di Pompei di Silla, Don Bernardino Abbadessa. Il torneo si svolgerà nel mese di settembre e gli organizzatori prevedono gare itineranti su tutto il territorio valdianese. Io a Nick una mano la do, anch'io, 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 anch'io. E come abbiamo sentito anche il Vescovo della Diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca sposa il progetto di solidarietà e scende in campo a sostegno di Nick Di Brizzi e insieme a lui anche il presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano, Valentino Di Brizzi che ieri sera hanno avuto modo di parlare direttamente con Nick Di Brizzi. Ascoltiamoli. È giunta questa segnalazione, questo bisogno di sensibilità per aiutare questo nostro concittadino che vive all'estero e che attende un delicatissimo trapianto e naturalmente ha bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti noi, sostegno economico per permettergli questo intervento chirurgico. E naturalmente in vista di questa solidarietà saranno avviate una molteplicità di iniziative, un torneo e tanti altri appelli per bussare al cuore di tanti di noi per poter essere accanto a questo bisogno umanitario e soprattutto per garantire a Nick Di Brizzi il nostro sostegno, la nostra amicizia e la nostra italianità. Noi abbiamo messo in piedi, ma soprattutto grazie all'impegno dei giovani dell'associazione attivamente questa gara di solidarietà per cercare di dare una mano ai nostri compaesani, al nostro compaesano. Ricordiamo tutti che Nick Di Brizzi è un sassanese doc nato nelle nostre vicinanze qui in via Ischi a Sassano. Quindi in collaborazione con questi ragazzi, ma soprattutto con la collaborazione attenta del Vescovo e di Don Bernardino, noi vogliamo portare avanti questo torneo di calcio che ci vede giocare un po' con tutte le associazioni del territorio, hanno dato adesione, anche le forze dell'ordine, parlo dei carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, anche i Vigili del Fuoco hanno dato la disponibilità per fare questo torneo di beneficenze e dare una mano a Nick. È bello perché un altro grosso contributo ce lo stanno dando le due banche del territorio che sono attenti a questa iniziativa e sto parlando della BCC Montepruno di Roscigno e la BCC di Buonabitacolo, che anche loro hanno messo a disposizione anche l'apertura di conti correnti a titolo gratuito per dare una mano a Nick per questa nostra causa. Noi speriamo di poter aiutare nel nostro piccolo Nick, ma sono convinto che tutti quanti noi insieme con la mano del Signore sicuramente potremmo dare una speranza importante al nostro compaesano. Sì, io ho una malattia che si chiama fibrosisistica. Fibrosisistica è generica. È un problema con il pulmone. Ho 33 anni e mi serve un doppio trasplante del pulmone. Allora io a Stanford University è come sei ora al nord di Los Angeles per fare questa popolazione. Il meglio ospitale è Stanford. Io abito a Los Angeles. Sì, giusto, giusto. Anche per la medicina. Dopo il trasplante prendo margini per immunosuppressant. E poi io devo abitare a Stanford come 5-6 mesi dopo l'operazione. Sì, grazie a tutti per me, per tutta l'aiuto. Un saluto a tutti. Voglio tanto bene a tutti quanti. A Sassano. Spero che un giorno possa ritornare a Sassano. Carenze igienico-sanitarie e strutturali per la Scuola di Trinità di Sala Consilina e Mensa per l'asilo nido restano i principali campi di battaglia per l'Associazione I nostri figli. Il vicepresidente dell'Associazione, Loredana Mariniello, fa il punto della situazione e annuncia la proposta dell'Associazione per risolvere il problema della Scuola di Trinità, oltre che in merito al servizio Mensa. Ascoltiamola. Noi come associazione I nostri figli, visto che nelle nostre finalità abbiamo il bene e la tutela dei diritti dei nostri figli e quindi anche dialogare con i rappresentanti scolastici e non, abbiamo protocollato al dirigente scolastico della Scuola dell'Infanzia una richiesta di informazioni, se lui sa della reale situazione in cui versa l'impianto scolastico della Scuola dell'Infanzia di Trinità, sia come carenza di norme di sicurezza sia come carenza di norme igienico-sanitarie. Dobbiamo dire che il dirigente si è dimostrato disponibile ad un colloquio e stesso lui si farà portavoce con l'amministrazione di Sala Consilina per richiedere un tavolo tecnico e fare il punto della situazione sulla scuola. Noi come associazione ci rifacciamo a quello che ha dichiarato il sindaco reperibile dai videoregistrati alla chiusura dell'anno scolastico della Scuola dell'Infanzia dove ha dichiarato che ci vorranno almeno altri due anni per avere una nuova struttura agibile per lo spostamento della scuola stessa. Noi come associazione abbiamo una proposta, visto che stesso grazie a questa amministrazione è stato tolto il vincolo sul tribunale, noi chiediamo a fronte dei 5.000 euro mensili circa che noi versiamo come affitto, perché non spostiamo, che si tratta solo di due anni, la scuola all'ex tribunale di Sala Consilina e renderlo come polo scolastico. L'adeguamento costerà sicuramente meno di 100.000 euro quello che noi versiamo per il fitto e sicuramente i nostri bambini starebbero al sicuro in una struttura sia a livello di sicurezza che sia a livello di norme gionico-sanitarie più adeguate per dei bambini piccoli, quelli che sono della scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda la mensa il punto della situazione è negativo. C'è stato rifiutato il tavolo tecnico che noi abbiamo chiesto per fare il punto della situazione sul bando, per vedere se questo bando è stato già fatto, se esiste e come è stato strutturato. Noi sempre vogliamo proporre la nostra idea, che certo non è per forza quella giusta, ma siamo anche pronti ad un colloquio con l'amministrazione, fermo restando che quello che noi proponiamo è quello che il Ministero ha detto da prendere come linea guida, cioè la mensa di Caggiano che fa un discorso a chilometro zero e soprattutto quello che noi teniamo a cuore è quello di proporre una mensa più accessibile a tutti, quindi utilizzare fasce anche grazie al modello ISEE e renderla accessibile anche a chi non può spendere per forza l'importo che è stato fino adesso utilizzato da parte dell'amministrazione. Il restante problema della mensa è quello che è successo a luglio all'asilo Nido, ovvero l'interruzione della mensa in maniera anticipata. Anche a fronte di questo ne abbiamo chiesto un colloquio con l'assessore di competenza, perché noi sappiamo benissimo che il bando mensa concluda giugno ogni anno, quindi luglio è un favoritismo che viene fatto all'amministrazione. Quindi anche noi questo dobbiamo chiedere all'assessore come la soluzione dell'anno prossimo, come sarà il bando che riscadrà sempre a giugno, quindi l'asilo Nido avrà sempre il problema del mese di luglio e soprattutto noi volevamo fare il punto proprio sull'asilo Nido, cioè se c'è un piano di sicurezza, se questo piano di sicurezza esiste e cosa prevede come piano di evacuazione nel caso succeda un terremoto, un ingendio o tutto quello che può succedere durante un anno scolastico, visto che il giovedì a ridosso dell'asilo Nido c'è il mercato e soprattutto volevamo chiedere anche altre informazioni, cioè se sono state recepite le norme della regione Campania sul numero di insegnanti al numero di bambini e se ci sono delle procedure per i bambini disabili e se queste sono attivate nel caso se ne faccia richiesta. Quello che noi vorremmo far presente ai cittadini, che noi ci siamo sul territorio, siamo presenti, però purtroppo fino adesso l'amministrazione non ci ascolta, qualsiasi richiesta che noi abbiamo fatto ci è sempre stata rifiutata, però noi non ci fermiamo e speriamo sempre in un colloquio con l'amministrazione. Sono appena rientrati dal Salone Universale dell'Alimentazione Expo 2015, dove la delegazione della BCC di Buonabitacolo e l'Associazione Laica sono stati per rappresentare ai visitatori del Salone Universale dell'Alimentazione i prodotti della nostra terra che rappresentano la base e la ricchezza della dieta mediterranea, un viaggio che ha fatto registrare un forte interesse anche tra espositori e visitatori dell'estero. La rappresentativa della BCC di Buonabitacolo e dell'Associazione di Artigianato Laica sono appena rientrati da Milano, dove hanno portato in presentazione alla grande fiera universale dell'alimentazione i prodotti, i sapori e i profumi della nostra terra. Un progetto partito già da diversi mesi che è stato caratterizzato dalla realizzazione di un opuscolo informativo, in cui sono state raccolte tutte le eccellenze del territorio del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, vera patria della dieta mediterranea, fatta di alimentazione genuina, così come da sempre sostenuto anche da Angel Chies. Non potevano quindi mancare questi prodotti nel Salone Universale del Gusto e dell'Alimentazione realizzato sul tema Nutrire la Vita e Energia per il Pianeta. Un'esperienza che ha affascinato chi vi ha partecipato. Ne vale la pena perdersi e stancarsi nell'area dell'Expo 2015 alla ricerca del futuro che sarà. Expo Milano 2015 è una grande opportunità per raccontare al mondo il meglio del nostro paese. In questo contesto il ruolo della BCC di Buonabitacolo, ancora una volta, è risultato straordinario. A Milano, nell'ambito di Expo 2015, infatti, la BCC di Buonabitacolo, in collaborazione con l'Associazione di Artigiani e Piccoli Imprenditori Laica, ha raccontato al mondo la bellezza e l'eccellenza della nostra terra, con protagonista la delegazione proveniente dal Vallo di Diano e Golfo di Policastro, che hanno presentato proprio le eccellenze enogastronomiche, le coltivazioni tipiche e l'amore che la gente di questi luoghi nutre per la terra e che esprime nel comportamento e in uno stile di vita invidiabile. Migliaia di persone hanno fatto incetta di materiale informativo prodotto dalla banca e migliaia di contatti con visitatori e delegazioni di paesi stranieri innamorati delle eccellenze presentate dalle 32 imprese selezionate dall'Istituto di Credito. Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Non potevamo non essere presenti, ha spiegato De Luca, non potevamo non offrire la possibilità ai nostri piccoli imprenditori dell'agroalimentare di poter raccontare al mondo che la nostra terra vale. Il nostro lavoro si basa sulla tutela e sul rapporto di chi ha deciso di investire, di restare e di provarci, di osare insomma nel nostro territorio. Con grandi sacrifici certo, ma la qualità non apprezzo, continua ancora De Luca, e dunque la soddisfazione di vedere apprezzato in questo contesto globale l'amore che nutriamo per il nostro grano, per il nostro pane, per l'olio e per il latte, per l'agricoltura e per le tradizioni. La capacità di far sopravvivere piccole eccellenze di cui il mondo dà bisogno ci ripaga di ogni sforzo e di ogni sacrificio. Un importante momento per un confronto sul futuro del nostro pianeta, ha invece riferito il presidente dell'Associazione Laica, Francesco Paolo. Un'occasione per aver certezza che il lavoro di sostegno delle piccole attività artigianali dell'agroalimentare che da tempo portiamo avanti segue la strada giusta. Una grande opportunità per raccogliere spunti di riflessione e momenti di condivisione per offrire nell'immediato futuro nuove visioni di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. In tal senso ne è convinto il presidente della BCC di Buonabitacolo, il professor Giovanni Rinaldi, che insieme al vicepresidente Pasquale Gentili ed alcuni rappresentanti del Consiglio di Amministrazione hanno intrattenuto un lungo ed articolato dialogo con rappresentanti dei paesi quali Israele, Francia, Germania e delegazioni dei paesi del Medio Oriente e del Sud America per un confronto sul sostegno economico ed investimenti in agricoltura. Il premier Matteo Renzi lancia la sfida, ma soprattutto una nuova proposta che dovrebbe portare all'abolizione della Tasi sulla prima casa. La Will allora pensa di eseguire una simulazione per valutare i risparmi che potrebbe portare tale abolizione. Nei giorni scorsi il premier Matteo Renzi ha lanciato la proposta di abolire la Tasi sulla prima casa. Una proposta vista con favore dalla Will, che ha fatto una simulazione per valutare i risparmi che tale abolizione comporterebbe. L'abolizione della Tasi sulla prima casa garantirebbe un risparmio medio di 180 euro annui. Secondo i risultati della simulazione Will, elaborata dal Servizio Politico e Territoriali, nei 106 città capoluogo di provincia il risparmio maggiore si registra a Torino con 403 euro media famiglia, a seguire Roma con 391 euro, poi Siena 356, Firenze 346, Genova 345 e Bari con 338 euro. Per la Will ogni riduzione del carico fiscale a carico delle famiglie era benvenuta, però, commenta il segretario confederale Guglielmo Loi, per non incorrere negli errori del passato sarebbe saggio e opportuno che contestualmente all'abolizione della Tasi Renzi staccasse 8.000 assegni intestati ai comuni con copertura certa dall'importo complessivo di 4,6 miliardi di euro. È necessario garantire la totale copertura finanziaria, ha aggiunto il segretario Loi, per evitare che gli italiani rivivano ciò che è successo in questi anni, e cioè che si cambi il nome ma non la sostanza, oppure che i comuni aumentino, per bilanciare le minori entrate, altre imposte e tasse locali a iniziare dall'IRPEF comunale, oppure taglino servizi essenziali per i cittadini. Secondo la simulazione, nelle città capoluogo il risparmio sarà di circa 230 euro medio, mentre per chi ha una casa nei comuni italiani il risparmio è quantificato in 180 euro. In dettaglio, per chi abita nei capoluoghi campani, il risparmio è calcolato in 299 euro per Napoli, 277 per Salerno, 252 per Caserta, 244 per Benevento e ultima con 216 euro a Vellino. La regione Campania conferma il suo trend negativo, che la colloca al primo posto per numero di incendi boschivi. Anche lo scorso fine settimana non è stato da meno, infatti con un bilancio che ha fatto registrare ben 124 incendi nel solo weekend nella sola regione. Vediamo. Il caldo di questi giorni contribuisce non poco al divampare di incendi su tutto il territorio nazionale. Sempre alta la guardia del Corpo Forestale dello Stato, dei vigili del fuoco e dei volontari pronti a spegnere eventuali incendi. Dopo il bilancio abbastanza negativo, tracciato alcuni giorni fa dal Corpo Forestale dello Stato, che nei primi sei mesi dell'anno ha contato oltre 1.300 incendi per una superficie totale in fiamme superiore a 6.200 ettari, con la campagna in testa per un numero di roghi, i dati che emergono dall'ultimo weekend non danno segnali di miglioramenti. Dall'ultimo bilancio redatto dal Corpo Forestale dello Stato emerge che durante lo scorso fine settimana sono stati 288 gli incendi divampati in tutta Italia. È ancora la campagna da giudicarsi il primo posto, la regione più colpita dalle fiamme con 124 incendi tra notti di sabato e domenica, mentre a pari merito per il secondo posto il Lazio e la Toscana con 17 incendi, la Calabria con 16 e la Puglia con 15. Le province più colpite sono state Salerno, Caserta e Benevento, dove sono andati in fumo 20 ettari di bosco. Il Corpo Forestale dello Stato rammenta il numero di emergenza almentale 1515, attivo e gratuito tutti i giorni 24 ore su 24, dove il cittadino può segnalare la presenza di incendi ed eventuali incendiari. E ora occupiamoci di cultura e viaggi. Oggi parte una nuova iniziativa ideata da Autolinea Curcio e da Ex Libris Caffè di Polla, che rientra nel più ampio progetto del libro sospeso. Dopo l'avvio della mini biblioteca allestita nei bus delle Autolinea Curcio a lunga percorrenza, ora si parte con il programma In Viaggio con l'autore. Ma vediamo di cosa si tratta. L'iniziativa della Biblioteca Surbus, avviata in collaborazione tra Autolinea Curcio ed Ex Libris Caffè, nell'ambito del progetto del libro sospeso, si arricchisce di un'ulteriore attività dedicata alla valorizzazione degli autori dei libri. Il 22 agosto 2015 sarà un viaggio speciale, quello che coinvolgerà le persone a bordo di un autobus delle Autolinea Curcio, nella tratta tra Roma e Golfo di Policastro. In tale data, infatti, Buxbus sarà anche luogo di presentazione del libro dell'autrice Giovanna Mulas. Si ampliano le iniziative volte a favorire la diffusione della lettura tra i giovani e non, un modo per riportare l'attenzione sui libri e sul lavoro di chi scrive le storie e racconta emozioni. Il progetto, denominato In Viaggio con l'autore, punta, nell'ambito dei viaggi di collegamento sulla tratta a lunga percorrenza, di portare i viaggiatori a conoscere e colloquiare con gli autori dei libri e conoscere le loro emozioni, le sensazioni nello scrivere i libri e i loro sforzi. Il 22 agosto i clienti che saliranno a bordo dell'autobus delle Autolinea Curcio incontreranno Giovanna Mulas, che viaggerà insieme a loro per parlare del libro di cui autrice nessuno doveva sapere, nessuno doveva sentire. Un'iniziativa che segue e amplia il progetto BooksBus, libro sospeso ideato da Michele Gentile della libreria Ex Libris Caffè di Polla, subito accolto da Giuseppe Curcio di Autolinea Curcio, nato per favorire la lettura raggiungendo le persone ovunque si trovino, in modo da far comprendere il piacere e le emozioni che solo la lettura di un libro può donare. Le Autolinea Curcio ancora una volta si mostrano sensibili alla cultura, diventando promotori di un evento unico che onirà il gusto del viaggio e il piacere per la lettura, alle emozioni di un incontro tra l'autore e il lettore. Sarà la grandezza poetica poi di Giovanna Mulas e la sua immensa disponibilità al confronto con le persone a regalare momenti di rara bellezza emotiva. Giovanna Mulas sarà poi impegnata in un altro evento nel Golfo di Policastro e precisamente a Villa Mare. Il 24 agosto alle ore 21, ai piedi della Torre Petrosa, Giovanna Mulas, scrittrice italiana, candidata due volte al premio Nobel per la letteratura, si esibirà nel suo reading Mulas legge Mulas, evento inserito all'interno della giornata del libro sospeso, organizzato dal Comitato Maria Santissima di Portosalvo e dal Comune di Vibonati. Torna anche quest'anno l'attesissimo appuntamento con il Negro Festival Apertosa, finalizzato alla promozione delle origini culturali e musicali del territorio e che ogni anno ripropone un tema di sensibilizzazione e su cui riflettere. Quest'anno tema del Negro Festival 2015 sarà a radici. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Pertosa, Michele Caggiano, che parla anche di quelli che saranno gli appuntamenti in programma dal prossimo 21, 22 e 23 agosto, in occasione proprio del Negro Festival. Quest'anno il progetto è radici, abbiamo voluto pensare appunto alle radici, alle radici del nostro territorio, insomma della musica del nostro territorio, infatti il titolo è radici, la musica del futuro antico. Abbiamo pensato la prima sera intanto a un grande artista che ha riscavato, diciamo nelle sue radici che è Francesco De Gregori, perché il 21 ci sarà appunto Francesco De Gregori che sta facendo un intagio, 28 brani, qualcuno inedito, qualcuno riletto da lui, e quindi anche lui sta scavando nelle sue radici, nella sua storia, nella sua musica, eccetera. La prima sera sarà preceduto da Antrosuono con Flo, che è il vincitore del premio Parodi del festival che si fa a Cagliari, e poi da un gruppo che si chiamano Alti e Bassi, mentre sabato 22 abbiamo una cosa veramente, diciamo anche questa importante, perché praticamente abbiamo nell'altro suono, Silvia Fanfani Schiavone e Giancarlo Schiaffini, ma la cosa più importante è che abbiamo sul palco centrale, anche qui Mimmo Maglionico, Alfio Antico e tutto l'Ambaratan delle Tamorle Napoletane, che hanno fatto per Negro un progetto che si chiama Il ritmo delle radici, ed è che sarà presentato in prima nazionale al festival Negro, quindi anche questa è una rivisitazione delle radici storiche, nostre, delle talantelle, delle tamorriate, che sono quindi la cultura musicale, identitaria del sud, dalla Campania alla Puglia, in particolar modo a quella della Campania. Per finire poi con Domenica, che abbiamo Raiz nell'altro suono, Raiz e Fausto Mesonella, conoscete, conoscerete tutti, conosceranno Aviotravel, Raiz con gli Alma Megretta, e poi chiuderanno la serata a Capone e Bungo de Manga, di un gruppo 30 orchestrali francesi, che praticamente fanno una musica percussioni, rock metal, insomma una musica di strada, rock metropolitana, insomma sabato e domenica una cosa per i giovani. Insomma Negro, quindi non solo attenzione alla musica, ma attenzione a riflessione su quello che vuole essere il territorio, appunto sulla storia, sulle radici del nostro territorio, un importante appuntamento per i giovani, e quindi che dire, aspettiamo non solo per i giovani, ovviamente c'è la gastronomia, c'è la possibilità di degustare il carciofo bianco di Pertosa, e piatti con l'olio d'oliva e quei prodotti tipici, ma è anche arte, anche trekking, insomma è attenzione sul territorio, sulle problematiche dei giovani, e sulle difficoltà che i piccoli comuni stanno avendo, e che per tre giorni, invece, con questa festa della musica, insomma possiamo riflettere, e con i giovani, proporre questo paradigma musicale ricco, grazie soprattutto al contributo del direttore artistico, che non è cambiato, Dario Zigiotto, e quindi grazie alla sua direzione artistica riusciremo, e siamo riusciti a mettere su questo importante programma artistico. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg, andiamo a Sassano, pubblico delle grandi occasioni, per lo spettacolo di Enzo Avitabile, e dei Bottari di Portico, giunti a Sassano in occasione, della quarta serata, dell'Assassano Beer Fest, questa sera, ultimo appuntamento, vediamo. Dopo le prime tre serate di ottima affluenza, e grande successo, ieri sera il boom definitivo di pubblico, per la seconda edizione del Sassano Beer Fest, che ha visto esibirsi sul palco, Enzo Avitabile e i Bottari di Portico. Il pubblico delle grandi occasioni, è invaso, ed è il caso di dirlo, l'ha tenuta Rauanelli, in località San Rocco a Sassano, per assistere ad uno spettacolo di grande successo, messo in scena dall'artista partenopeo. Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, hanno raccolto tanti giovani e non solo, pronti a ballare sotto il palco, al ritmo della loro musica. Un'apoteosi che ha premiato di fatti, la scelta degli organizzatori, l'Associazione Sassano Arte, Cultura e Spettacolo, di rendere protagonista, l'artista napoletano, di una delle serate di questa edizione 2015, del Sassano Beer Fest. Tanta buona musica, e una performance degna di nota, ha accompagnato la degustazione, delle tante birre internazionali, dei prodotti tipici della gastronomia nazionale e internazionale. Questa sera è in programma l'ultima serata della Cinque Giorni del Sassano Beer Fest, ad esibirsi sul palco Gli Schizzichea. Anche questa sera, così come nelle precedenti quattro serate, è attivo il servizio navetta su tutto il Vallo di Diano. Ricordiamo che il Sassano Beer Fest ha anche un carattere sociale, raccogliere fondi da destinare ad un progetto di monitoraggio ambientale, portando a Sassano un gruppo di esperti per realizzare sondaggi e analisi nelle acque e nei terreni ed individuare eventuali presenze di sostanze inquinanti. Dopo aver celebrato gli ottimi risultati ottenuti in questi primi sei mesi del 2015, la Banca Montepruno decide di presentare gli stessi risultati anche nei territori degli Alburni con l'appuntamento del Montepruno Day che si terrà sabato prossimo a Roscigno Vecchia. Nell'occasione, oltre a cercare di valorizzare il Borgo Antico di Roscigno, ci sarà anche il concerto di Don Bachi. Sabato 25 luglio alle 20 a Roscigno Vecchia si terrà il secondo appuntamento organizzato dalla Banca Montepruno per festeggiare gli ottimi risultati conseguiti nel primo semestre 2015. Dopo la grande partecipazione al Montepruno Day si torna quindi a celebrare nello scenario del Borgo Abbandonato di Roscigno i risultati ottenuti dall'Istituto di Credito Cooperativo. Il responsabile dell'area direzione della Banca Montepruno, il dottor Cono Federico, presenterà i dati economici semestrali. Poi si terrà il concerto del cantante italiano Don Bachi. La serata, presentata da Anna Maria Sodano e dal responsabile della comunicazione della Banca Montepruno, Antonio Mastandrea, verrà arricchita dalle esibizioni musicali del giovanissimo gruppo I Ragazzi della Montepruno, come sempre accompagnati e seguiti dai maestri Gerardo Costa e Francesco Rizzo. L'evento è organizzato con il supporto organizzativo del Comune di Roscigno e con la collaborazione e partecipazione di Tony Pasquale di ICN Radio. Con tale appuntamento, la Banca si pone ancora una volta l'obiettivo di valorizzare il Borgo di Roscigno Vecchia con un concerto sotto le stelle che regalerà tanta buona musica ed emozioni. La Banca Montepruno, al fine di favorire la partecipazione, ha previsto un servizio di navetta gratuita dalla sede amministrativa di Sant'Arsenio a Roscigno con prenotazione obbligatoria attraverso la segreteria dell'Istituto di Credito Cooperativo. Per il secondo anno consecutivo la Proloco di San Pietro Altanagro organizza le notti dei mulini due serate di musica popolare gastronomia, attività culturale e tanto divertimento il tutto ad ingresso gratuito un festival impopolare lontano dalla monotonia odierna e strettamente legato alle origini della terra così lo descrivono gli organizzatori. Fervono gli ultimi preparativi per la seconda edizione della Notte dei Mulini il festival di musica che quest'anno si svolgerà ancora una volta nella splendida cornice del Parco dei Mulini a San Pietro Altanagro un evento organizzato dai ragazzi della locale Proloco che dedicherà due serate alla musica popolare alla gastronomia alle attività culturali e tanto divertimento la manifestazione si aprirà il 31 luglio alle 21.30 con i cilentani si venga su mano a seguire i suoni contaminati di Zekeketam che dall'Irpinia passando per Berlino faranno ascoltare una musica etno-popolare in chiave diversa rivisitata dopo un'attenta ricerca senza però scostarsi di molto dalla tradizione l'1 agosto direttamente da Italians Got Talent le chitarre fiammanti dei poterico live rigorosamente acustico di flamenco folk rock alle ore 23 circa avrà inizio la notte della Taranta del Vallo di Diano con i Salentini Madre Terra gruppo presente nel cartellone degli artisti del tradizionale concertone di Melpignano anche quest'anno alla fine dei concerti in entrambe le serate Be Cooling Tour farà tappa al Parco dei Mulini con un DJ set etnico durante la manifestazione oltre agli stand enogastronomici alle installazioni d'arte alle mostre fotografiche e ai laboratori creativi vi saranno due appuntamenti da non perdere un'escursione nel Parco dei Mulini curata dall'associazione Outdoor Cilento e la proiezione permanente del documentario Vallo di Diano tra bellezze e sapori realizzato dal gal Vallo di Diano la città del quarto paesaggio l'evento anche quest'anno ha come tema centrale il ritorno alle origini ai valori e all'agricoltura un festival impopolare lontano dalla monotonia odierna e strettamente legato alle origini e alla terra spiegano gli organizzatori oggi si corre dietro la tecnologia si conoscono persone sui social bypassando l'amicizia vera si lascia cadere nel dimenticatoio vecchie tradizioni non si conosce il valore che la terra intesa come attività imprenditoriale ci può dare ci si lascia dunque sfuggire ciò che è semplice è a portata di mano e che ci rende umili e felici allo stesso tempo il festival concludono gli organizzatori sarà una buona occasione per riacquistare e rivivere questi valori e passiamo ora allo sport andiamo a Salerno presso il Grand Hotel Salerno ieri si è svolto il consueto incontro di inizio stagione sportiva organizzata dalla delegazione della FIGC Salerno con le società della provincia presente anche il presidente Pastore che ha parlato di impiantistica sportiva settore giovani calcio femminile e ha annunciato una grande novità per i prossimi anni la creazione di una web tv si è svolto ieri pomeriggio al Grand Hotel Salerno l'incontro annuale organizzato dal Comitato Regionale Campania a cui erano invitate tutte le squadre della provincia di Salerno l'incontro è stata l'occasione per parlare delle problematiche relative al calcio campano ma anche per illustrare le novità per la prossima stagione sportiva dopo i saluti del segretario della delegazione di Salerno il dottor Piero Malangone e dei consiglieri del Comitato Regionale Enzo Avino e Antonino Sessa la parola è pressata al professor Cuffaro che ha spiegato tutte le novità e le scadenze relative ai dirigenti che si occupano del settore giovenile scolastico poi è toccato al presidente della FIGC Campana Vincenzo Pastore a fare il punto della situazione primo argomento affrontato la questione impiantistica sportiva il presidente ha annunciato che nei prossimi anni saranno attivati i progetti per l'impiantistica sportiva necessari al miglioramento delle strutture cercando così di annullare definitivamente la questione relativa all'inagibilità degli impianti questi progetti ha aggiunto Pastore sono finanziati dai fondi europei in aggiunta il presidente nel corso del suo intervento ha stimolato le società a favorire la pratica sportiva anche a livello femminile e inoltre utilizzare il calcio come strumento di integrazione con immigrati e stranieri in più il numero uno del calcio campano ha lanciato un monito alle scuole calcio non abbandonate i ragazzi a 15 anni ha dichiarato il campionato under 17 è in questo senso importante per le scuole per continuare così a proseguire nel percorso di crescita dei giovani questi ha aggiunto Pastore rappresentano una serie di inviti da accogliere da parte vostra per migliorare il calcio in conclusione del suo intervento il presidente ha annunciato che si sta lavorando per dare vita ad una web tv utile a ricostruire quanto accade sui campi infine ha sottolineato l'importanza dei vivai per migliorare il calcio tuttavia per migliorarli ha dichiarato Pastore è necessario professionalizzare i dirigenti e qualificare i tecnici con l'augurio di buon lavoro per la prossima stagione si è concluso l'intervento del numero uno campano poi la parola al segretario Vecchione che ha spiegato novità e termini di iscrizioni per i prossimi campionati chiusa la spiegazione le società che hanno fatto richiesta sono salite sul palco per esprimere il proprio pensiero e non sono mancati duri attacchi nei confronti del comitato regionale come nel caso del centro storico Salerno dopo le risposte agli interrogativi delle società da parte del presidente Pastore l'incontro si è concluso con la consueta consegna dei palloni alle società e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti Autore dei sovrapposti